Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi venerdì 3 gennaio cielo sereno a tratti nuvoloso su tutto il territorio della provincia di Messina. Le temperature saranno comprese tra gli 11 e 13 gradi. I venti soffiranno moderati da sud-est sul versante tirrenico, deboli d'est su quello ionico. I mari mosso sia il tirreno che lo ionio. Grazie per la visione. Grazie per la visione.